ciao a tutti ragazzi allora un video brevissimo per dirvi che sabato e domenica sarò all'open sarò all'open per un semplice motivo perché voglio farmi conoscere da tutti perché tutti o quasi tutti conoscono il mio nome ma nessuno sa che faccio ho intenzione di presentarmi facendo un regalo a tutti un regalo piccolo però lo voglio fare il regalo è questo una bustina con i miei contatti eccoli qua e dentro questa bustina un po del mio lubrificante così che tutti possiate provarlo e tutti possiate dire la vostra su questo lubrificante perché io voglio sapere la vostra sì voglio sapere il vostro palliere su questo lubrificante che chi l'ha provato ha solo detto bene ma lo voglio sapere anche da voi quindi a tutti quelli che parteciperanno all'open avranno in regalo questa bustina con sopra con il con sopra con sopra i miei indirizzi per contattarmi e un po di row lubix per provare questo prodotto sui propri cubi vi saluto vi aspetto e spero di diventare amico di tanti di voi ciao a tutti ragazzi